80, votanti 80, maggioranza richiesta 41, schede bianche 13, schede nulle 3. Hanno riportato voti, Alessandro Ferro 55. Silvia Sardone, 9 voti. Mi chiamo per tanto eletto, visco l'esito della votazione, proclamore, presidenza e sussidio regionale della Lombardia, il consigliere Alessandro Ferro. Grazie a tutti. Aspetta, aspetta, aspetta un attimo. Ragazza, stai in diretta, per cui ve lo dico. Sì, pronto. Si sta prendendo il microfono. Ah, andiamo. Sì, pronto. Sì, pronto. Bene, grazie. Prima di fare un saluto di insegnamento, come vuole rapparsi in questo consiglio, procediamo al, come parlate vuole il nostro ordine del giorno, a completamento dell'elezione dell'ufficio Rosso Presidenza. Ricordo per questa elezione che ciascun consigliere può scrivere sulla scheda un solo nome, al fine di assicurare la rappresentanza delle ignoranze e che risultano eletti i consiglieri che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il consigliere fianziano di età. Dichiaro quindi aperta la votazione e invito i consiglieri segretari e i provvisori a procedere all'appello dei consiglieri in ordine famiglia.